Al trentesimo minuto viene fatto uscire Iaic che applaude in modo ironico all'allenatore, che sente e allora si rivolta verso il giocatore, lo prende addirittura per il collo e tenta di dargli un pugno, viene fermato dal resto della panchina, ma guardate ancora, non riescono a fermarlo del tutto e lo picchia.